La finestra aperta sul mare di Sergio Corazzini. Chi è Sergio Corazzini? Sergio Corazzini è un poeta crepuscolare, così viene definito. Si intende quindi un poeta che sa di avere una breve vita davanti a sé, era ammalato di una grave malattia, morì giovanissimo. E quindi crepuscolare si intende uno già la sera della vita. Siamo già, è consapevole che si sta avvicinando la notte, e quindi la morte, no? Non ha speranza, non ha sorriso, ma neppure tragedia. La poetica dei crepuscolari è opposta a quella di D'Annunzio, altisonante, e la poetica delle piccole cose, del senso di smarrimento di fronte alla difficoltà del vivere. Ebbene, questi sentimenti vengono ben espressi in questa poesia che andiamo a leggere. La finestra aperta sul mare. Non rammento, io la vidi aperta sul mare. Come un occhio a guardare, coronata di nidi, ma non so né dove né quando mi apparve, tenebrosa come il cuore di un usuraio, canora come l'anima di un fanciullo. Era la finestra di una torre in mezzo al mare, desolata, terribile nel crepuscolo, spaventosa nella notte, triste cancellatura nella chiarità dell'alba. Ecco, come vedete, c'è la parola crepuscolo, che abbiamo detto essere una parola chiave per questi poeti. Nel crepuscolo, quello del crepuscolo sarebbe, abbiamo già detto, quella fase della giornata in cui il sole sta tramontando, e quindi stiamo andando verso la sera. Ed è una parola chiave perché bene esprime il sentimento di questi poeti. Semplicemente, Corazzini ha visto una finestra di una torre in mezzo al mare, circondata da nidi di rondini. Questa finestra, però, dice, terribile nel crepuscolo, spaventosa nella notte, quindi incute un non so che di lugubre e di spettrale, ed è una triste cancellatura nella chiarità dell'alba. Cioè, sembra proprio contrapposta al chiarore dell'alba. È tutt'altro che qualcosa di luminoso, anzi, qualcosa di inquietante. Le antichissime sale morivano di noia. Solamente l'eco delle gavotte, ballate in tempi lontani, da piccole folli signore incipriate, le confortava un poco. Abbiamo detto che è la finestra di una torre. Ecco, dice che le antichissime sale, le sale, insomma, di questa torre, sono desolate e morivano di noia. solamente l'eco delle gavotte. Un tempo in questa torre forse si ballavano. Le gavotte sono delle danze. Un tempo forse c'era vita. Adesso, a quanto pare, c'è solo desolazione. Desolazione. Da piccole folli signore incipriate le confortava un poco. Vuol dire che forse un tempo c'era qualche appunto donna che ballava in questa torre e quindi un pochettino la presenza di queste donne, questi balli, eccetera, confortava un po' queste antichissime sale che invece adesso sono caratterizzate dalla desolazione più totale. qualche gufo coi tristi occhi dall'alto nido scricchiolante incantava l'ombra vergine di stelle. Che vuol dire che solamente qualche gufo triste rompeva la solitudine del luogo e non c'era più nessuno da tanti anni nella torre come nel mio cuore. Ecco, questa volta, scusate, a differenza della poesia di Pascoli di cui abbiamo parlato prima, in cui il riferimento silenzio adesso. Adesso vi chiedo quattro minuti di silenzio. State quattro minuti di silenzio. Chi non vuole stare in silenzio prende un'altra sul registro. Vediamo se lo smettete. Stavamo dicendo che nella poesia di Pascoli i riferimenti al poeta, all'io lirico sono impliciti, erano impliciti. Questa volta invece Corazzini lo dice chiaramente che, insomma, questa torre non c'era più nessuno da tanti anni nella torre come nel mio cuore. Questa torre simboleggia la sua anima, la sua solitudine, la sua desolazione. La desolazione che c'è in quella torre è un simbolo evidente della desolazione che prova il poeta. Sotto la polvere ancora un odore appassito, indefinito, esalavano le cose. Attenzione che le cose è soggetto, eh? Quindi, le cose esalavano un odore appassito, indefinito. È tutto, l'abbiamo già detto, nella poesia crepuscolare, è tutto un insieme di, anche di oggetti, di cose appunto, di pessimo gusto, si dice in un'altra poesia, però di un altro poeta, cioè di Gozzano. Cose però appassite, indefinite, quindi, che hanno perso il loro vigore, il loro colore, come se le ultime rose dell'ultima lontana primavera fossero tutte morte in quella torre triste, in una sera triste. Ecco, vedete anche la ripetizione di triste, triste. Vuole sottolineare proprio quelli che sono le parole chiave, insomma, la desolazione di questa torre e quindi, l'ha già detto chiaramente il poeta, la desolazione della sua vita e lacrimava per i soffitti pallidi il cielo, talvolta sopra lo sfacero delle cose. Vuol dire quindi che certe volte pioveva presso questa torre solitaria e questa pioggia del cielo sembrava un pianto, lacrimava per i soffitti, il cielo lacrimava, vuol dire quindi che la pioggia assomiglia ad un pianto. Poi ancora, lacrimava dolcemente e quietamente per ore e ore come un piccolo fanciullo malato, cioè, continuava a piovere come un fanciullo malato, è tutto sommato lo stesso poeta, un giovane malato, l'abbiamo già detto, Corazzini stesso era malato. Dopo per la finestra veniva il sole e il mare sotto cantava. Che vuol dire che a un certo punto dal mare sorgeva un canto e vediamo di che cosa canta il mare. Cantava l'azzurro amante cingendo la torre tristissima di tenerezza improvvise e il canto del titano aveva dolcezze, sconforti, malinconie, tristezze profonde, nostalgie terribili ed egli le offriva i suoi morti tutte le navi infrante naufragate lontano. Vuol dire quindi che il mare racconta in modo dolce ma a modo nello stesso tempo terribile di naufragi lontani. Un giorno anche le rondine hanno abbandonato la finestra, i loro nidi caddero nel mare. Allora scossa da un fremito la torre si incrinò lentamente sprofondando nel mare. Leggiamo l'ultima strofa. Una sera per la malinconia di un cielo che in vano chiamava da ore e ore le stelle volarono via col cuore pieno di tremore le ultime rondini cioè le rondini hanno abbandonato la finestra e a poco a poco nel mare caddero i nidi i nidi cadono nel mare. Un giorno non vi fu più nulla intorno alla finestra. Allora qualche cosa tremò si spezzò nella torre e quasi in un inginocchiarsi lento di rassegnazione davanti al grigio altrare dell'aurora la torre si donò al mare. La torre si incrina lentamente sprofonda nel mare. È un'immagine evidente dell'uomo che è probabilmente talmente debole e fragile che cade e muore quindi anche un simbolo della morte.